Musica 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 Hello guys! Benvenuti in questo nuovissimo video della Tecnic POC Allora, ho velocizzato un pochino l'impianto come potete vedere ho messo ogni tubo di stone ho fatto un tubo di gold uno di stone, uno di gold, uno di stone, uno di gold oh mio dio, qua ho messo dei tubi un po' così dei cavi più che altro perfetto, qui ho aggiunto un altro pannellino solare, qui ho collegato il recycler direttamente al medium, bla 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 Basta Ah si, ho stoppato il nostro mass fabricator quindi questo coso qui si è riempito il nostro ok detto questo andiamo a fare quello per cui ho iniziato a registrare ah, prima di tutto qualcuno mi ha scritto ma questo forno non serve a fare anche l'olio? si, fa anche l'olio e lo utilizzeremo lo utilizzeremo sicuramente in futuro per fare l'olio lo estrarremo da là dentro però adesso non ci interessa quello che andiamo a fare oggi è un modo molto figo di fare RG, cioè il windmill allora, qui ho già preparato un paio di generatori adesso ne chiediamo altri 28 miliardi di milioni di milioni e ne chiediamo altri 2 3, 4, 5, 6 altri tanti io direi che una cinquantina tipo tipo così 249 iron ingot 135 refinated iron allora, quei 135 di refinated iron non sono un problema forse sono un problema ho il crane star bello pieno davvero molto molto pieno guys, davvero molto molto pieno guardate come partono ok quindi, quindi, quindi allora mettiamo questa roba qui mmm questa roba qui mmm questa roba qui iron perfetto prendiamo il nostro iron penso che adesso ne possiamo cioè come dire ne abbiamo davvero in abbondanza ne abbiamo davvero in abbondanza grazie molto gentile non dovevate disturbarvi e darmi tutto questo ferro in maniera così un po' gratuita oh guardate che bello oh si ok allora stavo parlando stavamo stavamo io farei un altro po' di ferro rifinito non si sa mai quindi prendiamo questi 24 di qui li buttiamo qui ok stavo dicendo che ci servono una cinquantina di questa roba qua quindi c'è 81 e 51 perfetto thank you mmm troppo lento a estrarre dovrei prendere l'extractor mk3 però vabbè ok allora ce ne servivano 93 ne mancavano scusate sperando che poi non crashi tutto perché 50 sono tante oh request success ok eh 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 allora prima di tutto prendiamo il generatore mettiamo 4 iron ingot così ci farà un windmill ok io ne prendo uno per adesso poi ho preparato una crafting table qua di fianco questa tin cable che eh con 3d tin ci da 9 ultra low cable bla 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 allora noi facciamo un bel po' tanto di tin come potete vedere qui ne abbiamo facciamo così ok poi li lasciamo la quelli la intanto facciamo cuocere tutto ciò facciamo fare il tutto per e direi di fare un po' di torri un po' di torri ne facciamo una qui ne facciamo una qui una 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 qui vabbè una qui così guardate allora perchè questo perchè con lo windmill noi sfruttiamo energia eolica è la prima volta che faccio questo impianto lo voglio provare prima in questa serie e poi probabilmente lo porterò anche nella serie ftb se mi troverò soddisfatto allora facciamo così e a che altezza siamo? siamo a 97 97 io direi di superare il 100 almeno ecco così perfetto 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 ok bella altina in effetti eh si 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 molto 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 altina ok ok allora stessa cosa lo facciamo in quest'altro angolino qui quindi ehm ci devo proprio la pazza gioia eeeh con questi cable no 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 ridammi il cable grazie gentilissimo molto molto gentile allora c'è questo uccellino molto verde sull'alberino che sull'alberino l'alberino è proprio fantastico no dicevo allora c'è questo uccellino verde che è molto molto verde in effetti dai muoviti 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 non mi ricordo a che altezza ci siamo fermati ci siamo quasi però ci siamo quasi quasi un altro un altro un altro un altro mi sa che siamo peri 113 111 110 qui e qui siamo a 100 111 mi sa infatti ne abbiamo messo uno in più perfetto ole thank you allora dobbiamo arrivare a 110 ancora 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 ok la mettiamo qui 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 eh guys allora so che è un po' lento tutto ciò ma com'è per ingannare il tempo della costruzione del nostro del nostro generator che poi ce ne serviranno davvero tanti perchè guarda ne possiamo mettere 4 per per queste stack cioè di queste fila e adesso forse le sto facendo troppe alte non vorrei non vorrei dire però probabilmente però ho piazzato un filo alla cazzo ovviamente mmm ehi ma stai ancora craftando come un pazz... come un pazzarello sta ancora craftando come un pazzarello ragazzi allora vediamo dove sono i generator generator il generator dovrebbe essere da queste parti in teoria in teoria dai ok ah qui ci stanno i cable dei copper cable ok qui ci stanno niente qui ci sta le iron furnace ah guardali adesso mancano solo le batterie ottimo ottimo bene 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 guys noi andiamo intanto continuiamo a a a fare tutto ciò tutto ciò mi sa che sono ok solitamente la mia peaceful è sempre on amo la modalità peaceful di minecraft si non datemi del nabo guys lo so lo so lo so purtroppo mi piace non far esplodere i miei macchinari no non sono finiti eh si no mi piace non far esplodere i miei macchinari devo dire quindi si in teoria si mmm si ok allora 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 108 7 9 olè perfetto abbiamo un problema lo vedete quel tipo lì adesso adesso la morte viene dall'alto e dai cosa volete fare su qualcun altro pure tu cavallino pure tu Andiamo a controllare il query, va? Andiamo a controllare lo query, lo quendo, lo query, lo quendo, lo quendo sì, è il programmino che usa, mi sa, il capo bastone per parlare, che poi è usato anche nelle stazioni ferroviarie, no? E ogni volta che tipo vado a Milano, come è capitato negli ultimi giorni, e sento il, e sta ancora andando qui tranquillamente, questo come sta andando, 100, 170, possiamo farlo a zero un po', se lo porto a 100 MJ, reggi, chissà guys, vediamo, perché va veloce a 100, vediamo, vediamo se sta o scende. Stavo dicendo, quando vado in stazione, sì sì, sale, ce la fanno, perfetto, quando vado in stazione, mi sembra sempre tipo che il capo bastone inizia a un certo punto fa, salva tutti i merdori, ciao tutti i merdori, no? Così come fa lui, e se faccia le sue solite risale, tipo, og, 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 no, è troppo bello, ed è fighissimo, ed è fighissimo, andiamo a vedere se ci ha fatto i nostri generator guys, oh mio dio, Scusate, sono un po' moscio, ma, essendo tornato ieri, oddio quanti sono? Sono esattamente 50, wow, non l'avrei mai detto, oh, forse sì, allora, allora, mettiamo il generatore qui, Cosa è successo? Cosa cazzo è successo? Vola! Vola! Ah, è il recycler che ha fatto puff, ah, ah, erano gli altri quelli che, capisco, vabbè, fortunatamente, vabbè, il recycler lo rifacciamo guys, mio dio, pensavo fosse sposo qualcosa di fondamentale, il recycler alla fine si rifà, Molto facilmente, allora, stavo facendo un po' di questi, dobbiamo prendere del ferro, ferro, grazie ferro, molto gentile, e, qui, perfetto, Serve tantissimo ferro guys, allora, io prenderei un'altra stack, un'altra stack, un'altra, un'altra, un'altra stack, sì, non mi sono incantato guys, tranquilli, Sì, sì, il tempo l'è finì, prendiamo ancora questi, vediamo se, mmm, riusciamo a farli tutti, perfetto, ne abbiamo fatti 52, perché due generatori li avevo fatti io prima, Ma, allora, in teoria, in teoria molto teorica, se noi li mettiamo così, ok, io li metto così, ok, giusto, poi li posso mettere così, no, così, e poi così, no, poi così, poi così, giusto? Guys, ditemi se è giusto, perché non lo so, penso di Sinteri, eh, dovrebbe essere giusto, mi sembra che i Windmill vadano, Sento anche uno strano rumore, quindi, beh, allora, io direi, io direi, io direi, io direi, ottimo direi, Sasha Gray is the way, Io non ho detto nulla, adesso non venite a uccidere, adesso facciamo una fila così, io piano piano poi me li faccio tutti nella bellissima, offline, come dire, a telecamera spente, spentissime, spendacione, Ok, una bella fila di Windmill, oh, cazzo, ho fatto una bella botta, chi è che viene a rompere i coglioni a casa mia? Senti caro, senti caro, eh, non scassare i coglioni, grazie, stiamo, stiamo riempiendo un po' di roba noi qui, no, un po' di roba, un po' di roba buona, ok, oh, perfetto, Allora, io a questo punto, 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 Direi che possiamo farlo scendere, no, non così, facciamo scendere così, così, perfetto, 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 perfetto il cazzo, Mi serve del filo Vabbè guys lo facciamo nella prossima puntata Vediamo se il tutto ciò funziona Così se a me aspetto anche i vostri commenti Oppure no chi lo sa Vedrò forse registro anche da solo Quindi Cioè nel senso registro anche offline Provo anche offline Oh un ragno E quindi guys allora io vi ricordo di lasciare un mi piace Un commentino Non lo so di condividere il video E niente Di iscrivervi al canale se non l'avete fatto E alla pagina facebook in cui trovate delle foto Che ho scattato sul treno Tan 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 Chissà forse mi si vede o forse no Andate a controllare e iscrivetevi anche lì A quel punto Quindi guys da questo video è tutto E da Ren di Ren è tutto Ed enjoy che la Renna sia con voi Bye bye